Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Buonasera e bentornati al consueto appuntamento con gli eventi di Promoserio. Venerdì 13 gennaio, presso l'oratorio di Clusone, alle ore 20 e 30, si terrà una serata dedicata alla figura del clusonese Don Fortunato Benzoni. Relatore della serata sarà Don Giancarlo Carminati. Nell'ambito della resegna Montagna Sicura, venerdì 13 gennaio, serata teorica sull'utilizzo dell'arva, alle ore 21, presso l'auditorium delle scuole elementari di Clusone. Sabato 14 gennaio, a Nembro, andrà in scena lo spettacolo teatrale Un Nuovo Passato, a cura degli animatori del gruppo Dragone Rosso. Inizio alle ore 20 e 45, presso il teatro San Filippo Neri. Fino al 15 gennaio, ad Alzano Lombardo, la Fondazione Mazzoleni presenta la mostra collettiva Nuovi talenti contemporanei, con 12 artisti selezionati. L'ingresso alla mostra è libero. Per tutto il mese di gennaio, a Ponte Nossa, l'arte studio Morandi esporrà due installazioni di Emilio Morandi, Woman e Femminicidio, ideate dall'artista in occasione della rassegna Nemmeno con un fiore, a sostegno della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Clusone, Franca Pezzoli, arte contemporanea, presenta la mostra personale dell'artista Giampaolo Talani, dal titolo Di altre storie. Infine, nel centro storico di Ardesio, potremo ripercorrere la storia del borgo e delle sue frazioni attraverso la mostra Ricordi, che raccoglie 800 tra fotografie, cartoline, documenti storici e lettere, da fine 800 fino agli anni 80. Domenica 15 gennaio a Valbondione è in programma una ciaspolata all'osservatorio di Maslana. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso il palazzetto dello Sport. A seguire, visita alle vecchie miniere e ai siti di produzione del carbone. Arrivo all'osservatorio e proiezione di diapositive. A seguire, pranzo e rientro. In caso di mancanza di neve, si effettuerà una camminata lungo lo stesso percorso. Le iscrizioni alla ciaspolata sono obbligatorie, chiamando il numero 338-9999-974. Sono aperte le iscrizioni per l'evento invernale della Val Seriana e della Val di Scalve. Dal 20 al 22 gennaio sono infatti in programma le tre gare del Bergamo Schi Tour 2017. La pista degli abeti di Schilpario ospiterà la prima tappa, gara a cronometro in tecnica libera, venerdì 20 gennaio. Sabato 21 si terrà invece la gara sprint in tecnica classica presso la pista La Spessa di Clusone. Infine, domenica 22 gennaio, sulla pista degli spiazzi di Gromo, è in programma la gara in seguimento in tecnica classica. Una manifestazione unica nel suo genere, organizzata da Sciclub Schilpario, Sciclub 3 di Ciclusone, Sciclub Gromo, Fisi e Promo Serio. Per tutte le informazioni e le proposte di soggiorno, consultate la nostra pagina dedicata su www.valseriana.eu. Torna anche a questo fine settimana l'appuntamento con i percorsi turistici e culturali con degustazione. Sabato 14 gennaio a Gromo affronteremo un percorso inedito tra musica e arte nei centri storici di Gromo e Boario. Partendo dal borgo medievale di Gromo visiteremo le due chiese di San Giacomo e San Vincenzo, poi proseguiremo verso la frazione di Boario e la chiesa di San Bartolomeo. Domenica 15 gennaio a Clusone andremo invece alla scoperta di un itinerario insolito tra le vie del paese, un percorso che porta a conoscere i santi che vengono celebrati in questi primi tre mesi dell'anno e che troviamo raffigurati sui muri di chiese e palazzi. La prenotazione a tutti questi percorsi è obbligatoria chiamando il numero 342 3897 672. Per questo appuntamento è tutto, vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni sugli eventi in Val Seriana e in Val di Scalve visitando il nostro sito www.valseriana.eu Arrivederci e buona serata!